E' durata poco meno di mezz'ora la fuga del 51enne che nella tarda serata di questo mercoledì 23 giugno ha investito uno scooter sul quale viaggiavano padre e figlio rispettivamente di 44 e 17 anni. L'episodio è venuto a Malegno dove l'uomo, la guida della sua autovettura, non si è fermato ad uno stop impattando violentemente contro la moto dei due rovinati a terra. Senza prestare soccorso l'uomo si è subito dato alla fuga mentre sul posto, allertati da un testimone, sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Breno che si sono subito attivati per rintracciare il pirata della strada. Il minore investito è stato accompagnato in ospedale a Esine e ricoverato nel reparto di ortopedia a causa di una profonda ferita sul polpaccio della gamba destra. Mentre la descrizione resa da un cittadino congiuntamente alle immagini riprese da alcune telecamere hanno consentito ai militari di risalire immediatamente al 51enne, raggiunto sotto casa, proprio mentre constatava i danni riportati dalla sua vettura. Sottoposto all'alcol test è risultato positivo con un tasso di 1,95 grammi per litro ed ora indagato in stato di libertà per i reati di fuga a seguito di sinistro stradale, omissione di soccorso e guida in stato di ebrezza. La sua patente è stata ritirata e la sua auto sequestrata. I carabinieri dalla stazione di Chiari, in azione nei comuni di Cologna, Alserio e Bergamo, hanno invece eseguito una misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Brescia, arrestando due giovani di 25 e 22 anni, entrambi accusati di tentata estorsione, ai danni di un imprenditore di Chiari, vittima da circa un anno di minacce, telefonate anonime e in alcuni casi pedinamenti e aggressioni. I due gli avevano intimato di consegnare loro una somma di 450 mila euro. Se non l'avesse fatto, lui e i suoi familiari avrebbero avuto gravi ripercussioni. Le indagini condotte dai militari hanno consentito di raccogliere un grave quadro indiziario a carico degli indagati avvallato dal GIP che ha così emesso le misure cautelari.